Costruire un portafoglio di criptovalute e copiare i migliori trade che esistono non è mai stato così facile soprattutto se si vuole fare on-chain in maniera decentralizzata su Ethereum, su BNB Chain, su Avalanche, su Arbitrum, su Optimus e su Polygon in quattro parole addio exchange centralizzati di merda non so te ma il mio sogno è sempre stato quello di poter creare un portafoglio di investimenti con molti token però senza avere quel mal di testa di dover gestire i miliardi di token e fare mille click ma farlo possibilmente con meno click possibili con questa applicazione si può fare, si può anche bilanciare periodicamente il proprio portafoglio con 3 click e le cripto che si hanno all'interno potranno pure guadagnare una rendita passiva e ripeto, tutto questo on-chain senza la necessità di doversi fidare di terze parti si possono addirittura copiare i portafogli di altre persone, ricevere le notifiche ogni volta che questi trader modificano il loro portafoglio e le loro allocazioni e aspetta, ciliegina sulla torta questa applicazione ha annunciato che avrà un token e più si utilizza l'applicazione, più ci verranno airdroppati di token della piattaforma cosa vuoi di più? questa applicazione si chiama nested.fi in questo video cercherò di mostrarti brevemente come funziona l'applicazione come trarre il maggior profitto dall'utilizzo di questa applicazione e come ottenere al 100% l'airdrop che avverrà quest'anno prima di tutto dobbiamo andare su nested.fi vi lascio il link in descrizione cliccando qua in alto a destra sotto la voce Start Investing ci porterà invece direttamente alla nostra applicazione come sempre se vogliamo collegarci all'applicazione dobbiamo cliccare in alto a destra sotto la voce Connect ovviamente scegliamo Metamask scegliamo la chain a cui vogliamo connetterci in questo caso scelgo Polygon clicco su Connect e patatam siamo connessi all'applicazione in questa pagina che è chiamata Explorer possiamo vedere i portafogli in trending nelle ultime 24 ore per esempio sulla rete di Polygon possiamo vedere quali sono i trader più copiati possiamo vedere quali sono i trader più seguiti e seguirli se ci interessa seguire quello che fanno eccetera eccetera comunque avete capito qua ci permette di scoprire nuovi portafogli e nuovi trader quello che interessa a noi principalmente è quello di andare sotto la voce qua a sinistra My Holding e creare il nostro primo portafoglio cliccando ovviamente su Create Portafoglio qua se clicchiamo sotto questo Input ci permette di cercare il coin che vogliamo aggiungere al nostro portafoglio per esempio voglio aggiungere FXS voglio aggiungere GNS voglio aggiungere MATIC e voglio aggiungere un po' di USDC una volta scelte le monete che vogliamo aggiungere al portafoglio qua ci dà la possibilità di scegliere la percentuale di allocazione che avranno all'interno del nostro portafoglio per esempio posso scegliere di allocare al momento solo il 10% in USDC oppure al contrario posso decidere di allocare il 50% in USDC e distribuire in maniera proporzionale gli altri T per il restante 50% oppure posso cliccare sulla icona del lucchetto bloccare il 50% di USDC e cambiare le altre in conseguenza a quello che io voglio dare esattamente di valore per esempio posso dire 10% in MATIC lo blocco 30% in GNS e ovviamente di conseguenza si rivilancia il restante 10 AFXS una volta che siamo contenti della nostra allocazione clicchiamo sotto la voce Confirm Allocation qua ci appariranno le stablecoin che abbiamo all'interno del nostro indirizzo con cui si ha la possibilità di creare un portafoglio al contrario se invece vogliamo utilizzare delle cripto come ETH o MATIC si può cliccare sotto la voce Crypt e utilizzare i MATIC in questione io in questo caso voglio usare USDC clicco qua su USDC e li seleziono tutti clicco su Continua scelgo il nome del mio portafoglio Test per MDC ora lui sta chiedendo le quote esatte di ogni coin come vedete si sta aggiornando una volta che mi dà le quote qua posso cliccare sotto fee details e vedere le fee della piattaforma come vedete Nested prende un 0.3% 0.40 centesimi e il protocollo prende 0.27 centesimi dunque approviamo e autorizziamo USDC una volta autorizzato USDC per essere speso all'interno di questo protocollo clicchiamo su Create Portfolio che in inglese è incredibile accettiamo la transazione e come vedete in circa 1 minuto 30 secondi il portafoglio è stato creato momento pubblicità vi voglio ricordare che abbiamo le felpe di Bitcoin e di Ethereum sono le ultime che abbiamo disponibili dunque non tardate nel caso voleste avere una felpa veramente ben fatta made in Italy e onestamente mi sottotrovando da Dio in più come vedete comunque c'è stata una cura al dettaglio non indifferente trovate il link in descrizione e qua sotto la voce My Holding abbiamo la possibilità di vedere come stavano performando il nostro portafoglio e le nostre coin se clicchiamo sotto la voce Portafoglio ci dà anche la possibilità di vedere un grafico e vedere l'andamento del nostro portafoglio nel tempo se possiamo cliccare su questa icona e vedere anche un bel grafichino che ci dice come è suddivisa la nostra allocazione possiamo vedere anche la storia di tutte le varie allocazioni ogni volta che tocchiamo il portafoglio quello che abbiamo fatto possiamo anche cliccando qua su questa icona di settings comparare l'andamento del nostro portafoglio con l'andamento per esempio di Bitcoin e capire se per caso il nostro portafoglio sta facendo meglio di Bitcoin e dunque abbiamo fatto una cosa sensata oppure invece sarebbe stato molto meglio a detenere Bitcoin e avere una vita molto più semplice nel caso in cui volessimo modificare l'allocazione del portafoglio sarà sufficiente cliccare su questi tre puntini cliccare la voce Edit Allocation e come vedete abbiamo la possibilità di modificare anche qua le varie allocazioni ricordatevi che c'è la possibilità di cliccare sull'icona del lucchetto così facile poi si continua e si modifica in questo caso io non lo faccio mi sembra stupido perché tanto è molto simile al processo di creazione invece se vogliamo prelevare dei fondi dal nostro portafoglio abbiamo la possibilità di farlo sia in maniera semplice scegliere di prelevare USDC oppure delle cripto in particolare possiamo scegliere in quale quantità prelevare per esempio solo il 50% di GNS molto comodo molto comodo oppure posso decidere di prelevare in maniera proporzionale questo significa che posso decidere di prelevare il 50% del portafoglio per esempio in USDC e verranno prelevati da ogni singola coin in maniera proporzionale oppure in questo caso se decido di prelevare tutto il portafoglio ovvero di chiudere tutta la posizione del portafoglio sarà sufficiente cliccare sotto la voce Max cliccare qua sotto la voce comprendo che prelevare il 100% del portafoglio significherà cancellare il portafoglio e prelevarlo come vedete le fee del prelievo sono un po' maggiori rispetto alla fee delle creazioni del portafoglio questo è quello che guadagna ovviamente l'applicazione per fornirci questo servizio se siamo creativi abbiamo la possibilità di cambiare il nome anche del portafoglio oppure di inviare questo portafoglio a un altro indirizzo questo perché praticamente questi portafogli vengono creati sotto forma di NFT un NFT che praticamente al suo interno ha come degli scontrini che dicono che noi siamo possessori di quei tool che fanno parte della pool di Nested ovviamente questa applicazione è molto meglio utilizzarla su queste site no layer 2 che hanno delle fee molto più contenute comunque non è finita un'altra cosa che consiglio è quella di attivare le notifiche qua in alto se clicchiamo su questa icona profilo ci si apriranno le impostazioni cliccando sotto settings notifications direi di attivare telegram notification questo praticamente ci permette di iniziare un bot all'interno del nostro account telegram ci avviserà ogni volta che l'utente a cui abbiamo copiato un portafoglio fa delle modifiche a quel portafoglio così noi ci possiamo adattare e fare delle modifiche di conseguenza dunque sarà sufficiente cliccare su start bot aprire il nostro telegram all'interno del desktop come vedete io sono connesso col mio account clicco su start e basta il bot ora attivo vi lascio tra l'altro in descrizione il link del canale annunci di telegram nel caso mi interessasse ogni tanto scrivo qualcosa tra l'altro stavo proprio pensando recentemente se aprirlo e farlo diventare più una chat dove possiamo tutti dialogare, parlare, condividere informazioni dunque se vi sareste interessati mi raccomando fatemelo sapere nei commenti che se ricevo abbastanza richieste su questo potrei sicuramente farlo dunque finito qua possiamo anche andare indietro ovviamente all'interno del nostro account possiamo mettere usene mettere una bio, mettere chi siamo collegare addirittura il nostro twitter eccetera cosa che tra l'altro ho fatto con l'account di malati di cripto dunque vediamo se compare e si eccomi qua qua ho creato dei portafogli qualche giorno fa ovviamente con un pessimo timing però nel caso foste interessati vi lascio il link del profilo e nel caso potrete copiare i portafogli gli off creati su ogni tipo di chain e ci sono delle monete che onestamente ritengo abbastanza interessanti per questo periodo e guarda più bello di così avete la possibilità tra l'altro di fare un più 10% rispetto a me dato che io sto già facendo meno 10 siete già un passo avanti tra l'altro per copiarli è sufficiente cliccare su questo di polygon e vedete che qua esce un bel bottone che dice copy clicchiamo su copy e ci fa scegliere con quale monete vogliamo copiarlo per esempio usdt seleziono al massimo questi 8 dollari succosi clicco approva come sempre e alla fine una volta approvato clicco su copy come potete vedere ho copiato il portafoglio una nota è che una volta che si copia il portafoglio però non si ha la possibilità di editarlo questo perché appunto non abbiamo copiato dunque il creatore si occuperà di editare il portafoglio a noi ci verrà notificato la modifica del portafoglio e lo potremo modificare con qualche clic una cosa molto interessante è che quando copiate il portafoglio di altri trader gli permettete di guadagnare royalties questo significa che ogni volta che voi farete una transazione come copia il portafoglio modifica il portafoglio perché il creatore originale l'ha modificato questo permetterà di guadagnare una parte delle fee al creatore originale del portafoglio la grande magia di tutto questo è che al momento c'è un airdrop in corso infatti se clicchiamo qui sulla sinistra sotto la voce airdrop ci permette di vedere i rewards a cui abbiamo diritto in base ai portafogli che creiamo ovviamente siccome su questo indirizzo l'ho appena creato non ho nessun token e ogni 7 giorni verranno assegnati i token in base a tutte le modifiche o alla creazione di portafogli e alle operazioni che abbiamo fatto token che mi raccomando non sono ancora live ma verranno probabilmente lanciati a fine anno però vi ricordo che questa è una signora applicazione dunque se lo utilizzate ogni tanto con costanza non si sa mai che magari qualche centinaio di dollari come regalino lo otterremo tutti per i più curiosi sotto la voce documentation abbiamo la possibilità di vedere le varie informazioni riguardo alle fee e soprattutto alla tokenomics comunque in poche parole il token verrà tradato dopo il token generation event e il prezzo di vendita nella sale privata è stato di 0,80 centesimi di dollari per token questa è una informazione veramente utile dunque sappiamo che ogni volta che voi qua sotto la voce nst vedrete che crescerà più o meno ogni token avrà sicuramente un valore basico della sale privata che è di 0,80 centesimi di dollari i token avranno una massima supply di 150 milioni e verrà utilizzato principalmente per governance come ricompensa per gli staking per le bribes ovvero pagare l'applicazione per mettere il nostro portafoglio che abbiamo creato in cima all'explorer, in cima alla pagina principale ovviamente avere una maggiore visibilità oppure si potranno utilizzare i token per avere un livello VIP maggiore e vantaggi e sconti ovviamente sulle fee oppure per accedere ad i contenuti esclusivi un po' come il meccanismo del famosissimo OnlyFans infine gli nst token verranno anche utilizzati per ricompensare magari i trader che hanno creato un portafoglio che ci hanno permesso di fare per viventi un po' di riconoscenza non fa mai male possiamo vedere sotto la voce fee distribution come vi dicevo le fee che dovremo pagare ogni volta che facciamo un'azione all'interno dell'applicazione e poi anche la roadmap che ci mostra qual è la visione degli sviluppatori e dove vogliono arrivare con questa magica applicazione molto interessante per esempio che in futuro si avrà la possibilità di fare dollar cost averaging, DCA oppure generare incompassivi attraverso i token che abbiamo all'interno del portafoglio funzionalità che non è ancora attiva per un sacco vi si è apprezzato perché al momento questa è la mia applicazione preferita da utilizzare ogni giorno però mi piacerebbe che mi scriveste nei commenti se c'è qualche applicazione decentralizzata che state utilizzando al momento perché sono veramente curioso di sperimentare durante questo bear market e provare quali saranno le applicazioni del prossimo ciclo riazzista grazie mille malate di cripto e alla prossima